La macchina della solidarietà retina a favore delle popolazioni terremotate non si è mai spenta e adesso torna al lavoro a pieno regime con uno spettacolo di beneficenza pro terremotati. Una serata all'insegna della solidarietà e della buona musica grazie alle oltre 10 band a retine degli anni 60 e 70 che animeranno l'iniziativa che si svolgerà venerdì 9 dicembre presso la discoteca Il Principe. Qui invito tutta la cittadinanza proprio perché la solidarietà di Arezzo non si fermi come è successo un paio di mesi fa per i primi aiuti ai terremotati ma continui perché le scosse continuano e queste popolazioni hanno sempre un grande bisogno. E con l'amministrazione comunale sarà presente? L'amministrazione comunale sarà presente, ho avuto l'incombenza di presentare la serata, ce la metterò tutta, non l'ho mai fatto però ci sarò. C'è un'ottima spalla, un'ottima spalla chiaramente no no sarà accompagnata da tutti noi ma è una cosa familiare quindi non si troverà sicuramente a disagio. Diciamo così è presente anche i veterani dello sport che si sono assunti l'onero organizzativo, veterani dello sport ma ci sarà anche la serata non soltanto la partecipazione delle band a retine ma ci sarà anche un apericena offerta da Monerchi Eventi e dal Principe. Quindi al modico costo di 5 euro e tutti i 5 euro sono in favore dei terremotati. Quando si parla di solidarietà non si può non parlare di musica, ormai è un binomio perfetto. La musica è un talento e qualcuno prima di me ha detto che i talenti si devono anche come dire donare. I musicisti aretini donano la loro creatività, la loro passione per la musica e lo fanno per uno scopo benefico. Penso che questo faccia bene a tutti, a noi che suoniamo, a chi ci ascolta e soprattutto sappiamo che Arezzo continua ad essere la città della solidarietà. Io la chiamerei la città della solidarietà oltre che del Saracino. Veramente vivo la musica, vivo l'amore per la gente e vivo l'amicizia. Dobbiamo fare una serata di amicizia, stare tutti insieme e dare un messaggio a quelle persone che purtroppo sono state più sfortunate di noi.